Ma com'è stato cambiato? Sono stati fatti degli enormi passi indietro in un momento in cui non c'è crescita e l'unica maniera per fare occupazione e rendere più flessibile il mercato del lavoro, il decreto politico che andava bene nella sua versione originaria, viene cambiato nel senso della rigidità, perché la sinistra comunista del PD vuole rigidità, obbedendo alla CGL della Camusso. Ma siamo pazzi. Ma che storie ci racconta Renzi? Le storie del correre e correre, del creare posti di lavoro, del fare posti di lavoro per i giovani e poi subisce...